ciao ragazzi oggi nuova esplorazione ci troviamo davanti ad un centro di recupero per persone che avevano gravi problemi con l'alcol le droghe e marginati sociali questo centro penso sia stato abbandonato da veramente poco perché c'è un pezzo di struttura molto molto recente però l'unica cosa che si sa è che è operativo dagli anni 90 andiamo dentro a vedere no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.